Siamo alla Filtrinelli dove stasera è arrivato Renzo Arbero che presenta il suo nuovo album My American Way. Qual è il suo American Way? L'American Way è quello di cantare all'americana delle canzoni italiane che potrebbero essere americane ma anche italiane o napoletane. Poi l'American Way è quello di cantare con la nonchalance, con il senso dello swing, con del ritmo con le caratteristiche della musica classica americana leggera, le ballad che in America si chiama easy listening cioè facile ascolto e ho cercato di fare delle cose, una musica elegante che mi dicono che oggi è entrata in classifica quindi sono molto contento di questo. Questa è la mia scelta americana. Invece il Florence Way? Il Florence Way è l'ampredotto, adesso comincia la caccia all'ampredotto sopravvissuto alle magnate dei fiorentini di stamattina. Mi dovete poi dare un indirizzo preciso dove trovare, perché di solito io vado vicino al teatro al mio amico e quindi adesso non so se a quest'ora sono ancora aperti i lampredottiani.